Il confronto con gli altri altristi sarebbe importantissimo, sarebbe fondamentale. Uno scambio continuo, la capacità di guardare nel lavoro degli altri e intuire o vedere strade, capire, avere la possibilità di una visione diversa dalla propria, arricchirsi attraverso il lavoro degli altri. Però penso che sia una cosa molto difficile, credo che pochi artisti abbiano la capacità di confrontarsi liberamente e apertamente sul proprio lavoro e su quello degli altri, temendo qualcosa oppure, peggio, avendo l'arroganza di avere qualcosa di più di qualcun altro, che è una stupidità enorme. Io guardo dal disegnino del bambino, alla mostra dei fiorellini, alla mostra, quando posso permettermelo, di artisti importanti. Dovunque c'è un quadro esposto, io sono curioso, guardo, vedo e se posso incontrare la persona che lo ha fatto ci parlo molto volentieri. E per quanto riguarda il mio lavoro, se qualcuno guarda il mio lavoro, molto volentieri accetto sia le critiche positive che quelle negative, perché entrambe contribuiscono a aiutarmi a fare un ulteriore passo nella direzione che mi può interessare. Questo sarebbe bello se ci fosse un incontro tra gli artisti, più una frequentazione e non questa chiusura che li isola, ci isola, che è un impoverimento anziché un arricchimento. Per quanto riguarda il mio lavoro, ci è un impoverimento anziché un arricchimento.